Via, 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 via! Ma voglia! Oddio non posso! Ma no, ma no! Non mi fa andare! E buon salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ragazzi, sì, andremo a vedere quella che potrebbe essere la copia spudorata di Poppy Playtime. Ma vediamo come se la cava. Oh, magari è meglio di quello originale. Eccolo, si chiama Garten of Bamban. Garten of Bamban? Non lo so, credo di averlo pronunciato bene. Nuovo gioco. Va bene, dai, ci troviamo in quest'ufficio. Qui ci sono due computer, questa cosa, possiamo interagirci. Cos'è? Una carta? Una carta per aprire quella porta lì, immagino. Caffetteria. Kindergarten. Inseriamo sta tessera. E apriamo questa benedetta porta. Che cos'è? Un drone? Cos'è sta roba? No, non l'ho letta! Accidentali mie dita, schifose! Vabbè, manteniamo la calma. Allora, intanto posso saltare. Posso saltare. E basta. Senti, ma io questa gegge lo posso usare? Oppure no, me lo fai vedere ma non serva a niente. Comunque, guarda, com'è grafica direi non male, eh? Non mi sembra per niente male. Montiamo sul... Ah, qui che cosa c'è? Una torcia? Che cos'è? Che cos'è sta roba? Una pila. Ah, ok, devo mettere le pile al telecomando. Ma dove cazzo è sta pila? Eccola qui, ma vaffan... Allora, bene, adesso che cosa dobbiamo aprire con sto telecomandino? Devo usare il drone o devo... Ok, devo usare il drone. Aspetta. Premi il tasto sinistro del mouse per usare il tuo giocattolo. Ok, sì. Ah, ok, aspetta, forse devo... Con questo... Con questo telecomando... Io posso direzionare... Eccolo lì, la direzione. Posso direzionare la direzione. Ok, quindi adesso dovrebbe essere aperta. No? Devo schiacciare anche quello? Proviamo a schiacciare anche quello. Andiamo? No. Allora questo. Si sta incazzando, per questo diventa rosso? Che è successo? Sì, ma vai piano, che così ti rompi, scusa, eh. Dai, ritorna di qua. Ma che cos'è che ho fatto di diverso da prima? Non ho capito. Ma va bene. E... Segui... Che co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Qui già si inizia, eh. Qui già si inizia a fare amicizia. Vabbè, qua giù che c'è. Mi servono le tessere. Aspetta. Allora... Eh... Sì. Molto carino, come po... Buon salve Immagino che lei sia il mio prossimo amico Quello che mi rincorrerà e cercherà di ammazzarmi, vero? Devo trovare sei uova Allora bene, qui c'è un uovo Uno Due Ma guarda, uno è là sopra Siamo a due Vediamo dove possiamo trovare il terzo Eccolo qui C'è il quarto, scusate Vediamo se qui ce n'è un altro Eccolo qui Cinque Boh, intanto mettiamo questi Quindi siamo a tre Quattro Cinque Dove potrebbe essere il sesto uovo? Lì cosa c'è? Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta, aspetta Il furbacchione Guarda che cosa mi nascondeva il furbacchione Cosa ho fatto? Dove cazzo è quest'uovo di merda? Ah, guarda, qui c'è un pulsante Vaffanculo Proviamo a schiaffarlo qua sopra, dai Sì, ma vai però, dai Eh, dai Ti devi schiantà contro il pulsante Oh Via Beh Adesso Eccolo qui Benissimo Questo dovrebbe essere Il sesto uovo Senti proprio l'uovo che gli scende giù Per l'esofago Bene, adesso Ok Ho acquisito una tessera Che servirà per Quella cosa gialla Ok Adesso posso schiacciare il pulsante Signor drone venga pure qui Ho un altro incarico per lei Allora adesso lei mi dovrebbe andare a schiacciare quel pulsante lì Ce la può fare? No Quello lì sì Ecco Quello Quello lì Ah Grazie Ok abbiamo aperto questa porta Che cos'è un martello? Per poter aprire quelle Quelle sbarre Quelle travi di legno Distrazione Atto 1 Allora usiamo il martello Guarda eh Premi Spazio per saltare Grazie Grazie davvero Tempismo perfetto Allora lì ci sono dei tasti Qui ci sono delle impronte Si è fatta tutta sta pettata per arrivare qua su St'uccello Ma ti rendi conto? Allora verde Ok si sta muovendo L'uccello è sempre lì Qual è il mio colore? Ok Forse devo Vediamo Ok si Devo Trovare il colore giusto Per ciascun personaggio Disegnato su questo muro Questo se non mi sbaglio era verde Il mostrone gigante L'uccellaccio Maledetto Era rosa Questa è bianca Questa era rossa Va bene Arancione Dai Oddio l'ho azzeccato E qui che c'è? Un'altra tessera Questa andava a portata Ok si è accesa la luce Di questo bottone Di questo pulsante Bene allora drone Venga qua Oddio Oddio che c... Oddio Dai 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 Muoviti Oddio è sceso Oddio è sceso Oddio è sceso L'ho mai aperto Oddio 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 Via, via, via! Uccello di merda! Uccello di merda, mi insegue! Via, 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 via! Ma vai a... Oddio, non posso... No, 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 no! Non mi fa andare! Ma che c... Premi E per essere rincarnato. Oddio, eccolo che arriva! Porca putt... Dai, 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 dai! Muoviti, 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 muoviti! Prima che arrivi qui! Brutto bastardo! Guarda con quegli ovi, ma guarda come ti guarda poi! E dai! Eccolo! Via, 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 via! Dove cazzo devo andare ora? Ma dov'è che devo andare? Ma che c... Non è che mi serve il drone? Guarda qua! Ma cosa? Ma cosa? C'è proprio di video! Forse devo chiamare... Devo richiamare l'ascensore quando è di qua? Sì, sì, l'ascensore, insomma, le panche lì, sta quella roba. Per tornare in quest'altra sponda! Non ti avvicinare perché finisci male. Finisci male, io te lo dico. Adesso mi hai rotto i coglioni, eh. Beh! Ma che è? Ma si è messa la poltrona nel mezzo! Si è messa la poltrona nel mezzo! Ma che cacca! Mi sfidi, eh? Mi sfidi, eh? Ora ti faccio vedere io, ti faccio vedere. C'è il laccio di merda, ti faccio la diavola. Dai! Fermo lì! Gallinaccia! Dai! Fermo! Fanculo! 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 Vai a fare in culo! Oddio! Fanculo! Sì! 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 Ah! Minchiappelo! Oddio! Bene! E uno è fatto! Adesso bisogna andare a scoprire che cosa c'è in quelle altre stanze. Ah! Che sono di qua! Comunque ragazzi, mi sta piacendo, eh. Devo dire che mi sta piacendo. È semplicissimo. È simile a Poppy Playtime. Sì, molto a tema, devo dire. È praticamente uguale. Non so se c'è anche la seconda parte di questo. Se ci dovesse essere, la farò volentieri. Oddio santo, che cosa ci aspetta qui dentro? Sembra molto tranquillo. Prendiamo sto foglio. Nome Atma Adam. Ah, ok. È un biglietto dell'aereo. E quindi? Va inserito qui? No. Che cavolo c'è qui sotto? Che cosa ho fatto? Allora, che cosa dobbiamo fare? Abbiamo attivato questo coso per questo. Dai! Oh! Ok. Oddio Che cosa sta succedendo Da chi devo scappare adesso Oddio Che cagotto che mi è venuto Andiamo giù va Chissà dove ci porta Questo macchinario Oddio 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 Sì Cazzo che ho toccato Che cosa ho toccato Che cosa dovrei fare Ho sbagliato qualcosa Che cosa è successo Ma no Mi stava piacendo Dai Credo proprio Che dovrò scaricare Anche la seconda parte Bene ragazzi Beh che dire E come ho già detto A me è piaciuto Sinceramente Mi sono divertito Mi sono impaurito Quello che doveva fare Lo ha fatto E quindi perché no Perché non scaricare Anche la seconda parte Fatemi sapere con un malloppo di mi piace Un malloppo di commenti Se questo gioco vi è piaciuto È stato di vostro gradimento E se volete che porti Anche la seconda parte Io Come ho già detto Lo farei molto volentieri Con questo è tutto ragazzi Ci rivediamo come sempre Nel prossimo video Grazie a tutti Sì, sì, sì.